Oggi sono un po' particolarmente commossa per due motivi, perché qui c'è un collega, io faccio parte anche del comitato scientifico, i quali mi hanno fatta, adesso ve lo confesso con te, i quali mi hanno sempre fatta paura perché parlano un linguaggio da intellettuale difficile tra di loro, in un modo tra i professori, il comitato scientifico è formato dal ministro della pubblica istruzione Fioroni per studiare il metodo giusto per l'educazione del futuro dell'Italia in chiave interculturale e la prima volta in vita mia con questi professoroni che mi sono messa a soggezione e non capivo più il loro dialogo e io penso ho fatto brutta figura spero di recuperare stasera, però sono particolarmente commossa con questo professore che sta da quella parte. Allora, vorrei iniziare il nostro incontro prima di presentarmi con due, uno è un racconto etiope, perché i due paesi, Eritrea e Etiopia, sono sempre in guerra e io nelle mie attività cerco di trasmettere invece la cultura dei due paesi perché hanno molte cose da dire al mondo e anche un gesto piccolo di pace, un germe, spero che crescerà, con un racconto che viene dall'Etiopia e con una poesia orale, Aulo, che poi dirò tra pochi minuti cosa vuol dire, una poesia cantata che esprime l'anima. Io faccio attività interculturali nelle scuole e ai ragazzi chiedo spesso per essere più felici di quello che siete cosa vorreste avere, li chiedo e il 90% mi dicono una moto, una piscina, andare a viaggiare, insomma tanti sogni legati ai soldi. E ai bambini in Eritrea ho chiesto cosa vorreste avere per essere più felici di quello che siete e loro mi hanno risposto andare a scuola. E quello che hanno imparato gli Eritrei nasce anche da questa canzone molto popolare, la traduzione è deludente però prima vi reciterò la poesia cantata Aulo in tigrino e poi la traduzione accontentatevi ancora non ho più alcuni volontari che mi aiutere in futuro a fare in Rima in Italia. Quindi, questo Aulo diceva Il nostro corso gratuito è gratuito. Il nostro corso gratuito è un po' di più e di che dal mondo. Sono una del mezzo del mondo. Ma cosa che vorresti prima non vivere le livelli? La pioggia è la figlia delle nuvole, la gioia della salute. Noi figli di Adamo e Eva siamo fratelli senza dubbio, un ingenuo si fida tanto della vita, chi di noi vive in eterno? Oggi siamo carne e ossa, domani il fango della terra. Che Dio solo anticipi i nostri funerali a quella dei nostri figli. Col divertimento e amore in vita annulliamo la solitudine umana, amarsi in vita è l'antidoto della morte, l'amore in vita, in vita cancella la fragilità umana. Qui è una storia del caffè che viene dall'Etiopia. Lo sapete del caffè? Il nome da dove viene? Dove è stato trovato? Allora, vi dico allora un breve racconto del caffè, perché il caffè il nome stesso ha avuto nel 1600, è stato scoperto dagli arabi, dall'impero ottomano, in Etiopia, dalla regione che si chiama Caffa. Da qui ha preso il nome del caffè. La prima città in Europa che ha sviluppato, diciamo, il costume di bere caffè è stata Napoli. Da Napoli si è sviluppato in tutta Europa. Ecco la storia del caffè secondo gli etiopi. Un giorno, tanto tempo fa, all'epoca in cui Dio camminava ancora per la terra e gli chiamò un uomo e gli disse, vieni, ti dirò in che giorno morirai. Ma l'uomo rispose, io non moro mai. Perché dovrei morire? Voglio restare vivo per sempre come te. Come potresti restare vivo e non morire, disse Dio. Vieni, ascolta da me il giorno della tua morte. Ti farò morire dopo che avrai visto i tuoi nipoti fino alla quinta generazione. Vivrai per 300 anni, però quando avrai visto cinque generazioni di nipoti dovrai morire. Come vedi, rimanderò la tua morte per molto tempo. rispose l'uomo. No, non voglio morire per nulla. Io sono tuo figlio, voglio rimanere vivo insieme a te. Allora vacca disse, poiché tu ti rifiuti di accettare la mia decisione, scompari dalla mia vista, morirai oggi. A queste parole l'uomo montò sul suo cavallo e corse via. Correva veloce quanto poteva andorlo dal luogo dove sorge il sole fino a quello dove tramonta. A sera, verso il tramonto, raggiunse un luogo dove alcune persone avevano scavato una tomba, presso la quale sedevano. Quando videro il cavaliere in arrivo, si dissero, guarda, eccolo. L'uomo arrestò il suo cavallo, chiese loro, perché avete scavato quella tomba, questa tomba? Non sappiamo, dissero, ma pensiamo che sia per te. Stamane Dio è venuto qui e ci ha detto, scavate una tomba per qualcuno, che per un uomo che si è rifiutato di accettare la mia decisione. E questo è ciò che Dio ci ha detto di fare. Oh Dio, esclamò l'uomo, allora è vero quel che si dice. Anche se parti la mattina presto non puoi sfuggire a Dio. Smontò da cavallo e morì subito, ed essi lo seppellirono. Dopo cinque giorni, Dio si ricordò di nuovo di quell'uomo. Andò nel posto dove viveva quella gente, gli dissero, oh vaca, è accaduto tutto come hai detto. L'uomo è passato da di qui e morto immediatamente. L'abbiamo seppellito come ci hai detto di fare. Portatemi alla tomba, disse Dio. Quando Dio vide l'uomo giacere nella tomba, sgorgarono lacrime dai suoi occhi. Esse caddero sul cadavere di quell'uomo. È meraviglia! Nello stesso istante, una pianta di caffè germogliò nel punto in cui erano cadute le lacrime. E' così che il caffè precede tutte le altre cose. E' così che viene preparato per primo in tutti i rituali. Il caffè è la nostra grande medicina. Fu benedetto da Dio fra tutti gli alberi, benedetto dalle sue lacrime. Tutte le piante crescono per la pioggia, ma la pianta del caffè è germogliata dalle lacrime di Dio. Grazie. E ho preso caffè perché è metafora per eccellenza di intercultura che è venuta dall'altro, attecchita talmente qua che non ci sembra neanche che è venuta dall'altro, però alla quale non diciamo di colore, no? Invece a me sì. È vero? C'è qualcuno che dice che non è vero? Si dice in Italia di colore. Vogliamo riflettere perché le parole sono pietre. Perché si dice di colore? Io ho fatto ricerca a Roma, vivo a Roma da dieci anni. E mi hanno detto come a un vecchio, non si dice vecchio, ma si dice anziano per non offenderlo. Così abbiamo paura di offendervi se diciamo nero. Spiegatemi voi il paradosso del paradosso tutto l'estate. La maggioranza degli italiani, soprattutto delle italiane, si stendono al sole mettendo tanta crema per assomigliarmi il più possibile. Come lo spiegate questo paradosso? Allora o sono bella o sono brutta. Decidiamo stasera. Ha una lunga storia questa storia. Io sto raccogliendo le fiabe dell'Eritrea per pubblicarle e leggendo sono capitata su un libro di a cura di Polo o da prefazione di Italo Calvino sono capitata a questa introduzione che dice così. Non solo. Nelle mille e una notte il nero torniamo ancora indietro dai greci. Non so se vi ricordate nella storia di Esopo l'Etiope per gli greci l'Etiope voleva dire l'Africano nero lontano insomma straniero barbaro questo voleva dire. Nella storia di Etiope di Esopo dice così una favola o una storia o una leggenda non saprei come dirla lascio a voi dirmi cosa sia. Uno un greco ricco ha comprato uno schiavo che era nero e lui pensava che per maltrattamento era diventato nero non aveva mai visto uno nero ha detto che ha lavato lavato con tutti i profumi che esistevano nel regno ma questo non cambiava mai allora la morale di Esopo e le cose naturali non cambiano bisogna accettarle come sono e nelle mille e una notte gli schiavi sono neri e bianchi dopo c'è una degenerazione nelle nelle fiabe della raccolta dei grim il nero e l'ebreo sono figure negative quindi vedete la storia non va sempre in miglioramento ma scende e sale che poi ha creato il mostro di Irla quindi stiamo attenti nelle parole nei racconti ai bambini le parole sono pietre e qui Polo Godin dice nell'intervista della introduzione così molte persone per ogni altro verso spregiudicate trovarono difficile credere che tra tutti i popoli autoctoni i negri posseggano una letteratura orale di un certo valore artistico paragonabile sotto molti aspetti ai nostri racconti popolari il nostro africanista tedesco Carla Meinhoff riferisce per esempio che quando nel 1888 fu pubblicata in Germania una raccolta di fiabe popolari del Camero parecchi bianchi che erano vissuti per molti anni in quotidiano contatto con gli indigeni levarono veementi indignati proteste insistendo che nessun negro avrebbe potuto mai comporle quindi ecco dove è l'origine di questo diciamo termine di colore che si contrasta anche con il gusto di moda di adesso di abbronzatura i bambini poi non dicono di colore i bambini mi dicono marroncino color cioccolato nutella poi verso terni nelle campagne terra bagnata color cuoio eccetera ma non dicono di colore sono i grandi a rovinarli ultimamente anche i bambini cominciano a dire di colore ma sette anni fa non lo usavano allora io che ho imparato un po' sono incallita da questi termini di previdizio ormai ho fatto abitudine prendo in giro questo termine di colore e faccio la campagna a voi di non usarlo più perché è un eufemismo con una poesia che mi autolodo visto che gli altri hanno paura a dirmi nera dicendo so bella nera in romanesco poi da dieci anni che vivo a Roma è giusto a questa roba nostra dedicarle una cosa bella so bella nera lavoro nero giornata nera gatto nero a me ma di conti colore visto il nero non è bello non ti affenne meglio detta di colore ma quale offesa ve dico io che so bella nera ma di è il vero nera nera non so ma colore coio di cioccolato ero solo a Bissina so franco eritrea di Roma e mi chiamo Repga si nuve basta di temi nera perché so bella così adesso però vorrei portarvi un po' indietro con il colonialismo italiano che è un altro tabù tanti giovani nelle università quando studiavo mi dicevano da dove vieni e all'epoca mi sentivo tutta eritrea dicevo eritrea adesso sono un po' francese un po' romana un po' idrea quindi quando dico noi pensate decifrate decodificate voi ma all'epoca ero decisamente eritrea dicevo io sono eritrea e i giovani mi dicevano ma da che parte del mondo si trova i giovani non è colpa loro nei libri di testo andate a verificare c'è quel trafiletto che si capisce appena appena c'è un tabù su questa faccenda e invece gli anziani mi cantavano la faccetta nera e lo sapete perché la faccetta nera è stata creata? perché la gente gli italiani non volevano andare in Africa per la campagna del colonialismo e siccome i politici hanno capito le loro debolezze verso le donne per invogliarli provocando questa bellezza avissina hanno cantato la faccetta nera attenzione però la faccetta nera ha funzionato solo fino al 1938 perché con le leggi razziali contraddiva la situazione allora è stata proibita lo sapevate e le leggi razziali noi spesso quando si parla degli ebrei attacchiamo sempre Hitler eccetera ma non facciamo l'autocritica abbastanza è ora di spolverare anche il colonialismo perché se non vogliamo altri nuovi mostri Hitler qua o altrove dobbiamo fare i conti con la nostra storia adesso vi racconto però attraverso un aulo cosa è successo in Eritrea durante il colonialismo c'è una tradizione Eritrea che anche in Italia soprattutto in Toscana Benigni l'ho visto fare anche a Roma ci sono le pasquinate però le pasquinate come le sapete sono scritte non sono cantate invece in Eritrea c'è la tradizione di dire tutto immaginiamo che questa sera qualcuno forse è scontento delle mie parole fossimo in Eritrea che avrebbe detto aulo 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 che vuol dire ascoltatemi ho una comunicazione pubblica da farvi e chi risponde cari miei è il più anziano che risponde tra l'altro qui voglio un po' sottolineare l'anziano è dei viventi il più rispettato pensate mio nonno che era sacerdote per fortuna sono copta e si sposano i copti se non è sarenata e baciavo prima i piedi poi le ginocchia poi le mani poi dicevo buongiorno guai a me se arrivavo e dicevo buongiorno guai a me allora il più anziano che è rispettato si sente onorato se per esempio non c'è quel complesso che sento in Europa qui con l'età con la morte con l'età è proprio un rapporto difficile che c'è in Europa se a un anziano gli chiedete quanti anni hai e se lo sa esattamente dice 70 anni suonati e qui sento alle signore non si chiede l'età ma perché tutto sto complesso verso l'età io penso che sia proprio legato se sbaglio correggetemi al rapporto col tempo che c'è uno qui corri corri sapete che si dice in Africa noi abbiamo il tempo e gli europei l'orologio e corri 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 il tempo scappa poi le rughe arrivano la vita non si è goduta e alla fine è diventa complesso invece il tempo in Africa è talmente vissuto succhiato nella vecchiaia quando mio nonno è morto si è fatto festa non si dice neanche morto si dice si riposa mentre una giovane che non ha avuto figli se muore si dice è stata falciata dalla vita quindi è una cosa drammatica ma un anziano che è nato è cresciuto ha visto i nipoti ma che vuole basta ciao addio cioè c'è un rapporto proprio tranquillo e in questi casi quando uno dice aulo aulo il permesso viene dal più anziano del gruppo proprio in forma di rispetto allora l'anziano gli risponde al habbo hab aulo aulo che ha detto dicendo habbo habbo che vuol dire ti do la parola puoi parlare a chi be canta balla se è matrimonio se è funerale si piange dipende dalla situazione se è vecchio non è insomma così drammatico ma se è giovane si piange forte 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 allora per dire calmatevi c'è una comunicazione ufficiale che dobbiamo ascoltare tutti la parola a chi ha chiesto attenzione però le sue idee mica le dice in prosa come qua le dice e poi siamo 99% di analfabeti a memoria compone una rima e in rima dice le sue idee immaginiamo stasera che qualcuno è scontento delle mie parole dice ma Ripka che stai raccontando eccetera eccetera la sua rima se io non sono contenta dell'accusa che mi viene o della lode esagerata può essere anche una lode allora rispondo anch'io in rima a condizione che rispondo in rima se non rispondo sono dolori perché vuol dire che quella persona ha ragione e devo portare le mie scuse quando Mussolini nel 1938 pubblicamente ha dichiarato diciamo le leggi razziali in Italia un nostro parente al quale è stato tradotto il contenuto del suo discorso del discorso di Mussolini ha fatto un aulò che però purtroppo Mussolini non conosceva Tigrino non ha risposto è una causa persa e ha composto questa poesia la traduzione come la traduzione è ridente però fa niente. Aulo, aulo, voglio dire un aulo potente quanto il tuono, poiché Mussolini dice tante cose assurde, voglio dire un aulo potente quanto il tuono, o Vergine Maria, se sarai con me sono sicuro che verrai in mio aiuto, poiché hai il potere di disfare il progetto umano, o Palazzo Asmarini, o Palazzo Asmarini, speriamo che sarete occupati da noi abissini perché c'era la segregazione razziale, agli Eritre era proibito, come nell'apartheid del Sudafrica, era proibito andare al centro, era solo per gli italiani. Mussolini ha rovinato il grande amore che era nato, malgrado il colonialismo, malgrado tutto tra i due popoli, come vedrete adesso dalle poesie. Io non avrei mai pensato che c'erano anche cose belle per gli italiani nelle aulo dette dagli Eritrei, pensavo che tutto avrei trovato cose negative, però prima di leggervi le poesie, le aulo dedicate agli italiani, del colonialismo italiano, vorrei raccontarvi una storiella che è molto importante per farvi capire che cultura uno porta dietro a sé quando viene qua. Una volta in Eritrea, cioè l'immortalità si ottiene in due modi, con la continuità dei figli e con la memoria. La memoria si cercava di tenerla con le rime che si raccontano durante per esempio i funerali, se un personaggio era importante per il pubblico, si dicevano rime a suo onore e quelle rime si tramandavano. Io ho una poesia che risale a 150 anni addietro perché, prima del colonialismo italiano quindi, è successo questo, che siccome c'è la tradizione di dire tutto in rima, un grande poeta eritreo ha accusato l'ingiustizia di un potente pubblicamente e questo per venticarsi ha preso la sua mucca e l'ha mangiata. Ma questo qua non era contento e poi è morto, questo potente uomo è morto e tutto il villaggio ha chiamato questo personaggio per tutti i poeti dall'Eritrea per dedicare una poesia almeno da tramandare in modo che diventi immortale nel suo villaggio. Solo questo grande poeta che era offeso dal suo trattamento gli ha detto io né oggi né domani a te dedicherò una poesia. Ma attenzione, il morto però è il morto importante nel senso dove i vivi avevano il dovere di pulire i peccati in un mondo perché sta per entrare nel mondo sacro degli antenati. Hanno scoperto perché non gli voleva dedicare una poesia a lui per il motivo che vi dicevo prima perché gli ha mangiato, l'ha combinato diciamo l'ha trattato male per vendetta, tu non meriti di essere tramandato in memoria perché non sei persona decente però poi i vivi dovevano compensarlo hanno fatto colletta e gli hanno dato due mucche per il torto che ha subito per pulire il peccato del morto. Lui ha detto no, lui mi ha preso solo una mucca quindi non voglio. Quindi una volta purificato dai vivi il peccato del morto volevano anche celebrare come Dio vuole a questo potente personaggio che per il pubblico aveva fatto anche delle belle cose e quindi hanno fatto un simbolico funerale e a questo secondo funerale il poeta che ha fatto pace che ha avuto la sua mucca gli ha dedicato questa poesia e ha 150 anni di come storia è dietro 150 anni fa è successo e mi è stata raccontata nel 2001, pensate la memoria che mi mantiene sei maestoso quanto la montagna di Saim con una gomitata fai saltare tutti in aria sei grande quanto la montagna di Meshamati un diavolo quando miri la fronte dei nemici dolce come le fate notturne quando canti sei gigante quanto la montagna di Italia con una spada metti sotto mille combattenti oh tu la vetta della nostra terra ora che te ne sei andato come faranno tutti a continuare il cammino come faranno a scendere e salire nelle difficoltà quotidiane ecco questa società che puliva anche i peccati dei morti penso a qualcosa da dirci a tutti questi in Italia che succedono dopo 15 anni non c'è giudizio a queste bombe a Bologna cadute ancora non si sa il colpevole penso che questa società dalla quale solo arrivano delle immagini stereotipate qualcosa abbiamo da imparare grazie che dicevano gli eritrei nelle loro aulo sugli italiani sentite allora queste sono un po' divertenti intanto il detto eritreo dice gli italiani ci dicevano mangiate e non parlate perché chi osava dire contro di loro finiva a Nacola un lager da dove non si tornava più non ho tempo vi avrei raccontato anche una bella storia però io non ho l'abitudine di sforare i miei tempi per essere breve anche per chiudere quindi salto queste cose sperando che avremo un'altra occasione di incontrarci e gli italiani ci dicevano mangiate e non parlate gli inglesi parlate e non mangiate perché si sono presi tutto quello che hanno lasciato gli italiani e gli etiopi non mangiate e non parlate perché loro addirittura ci hanno impedito pure la nostra lingua quindi è stato sempre peggio cari miei speriamo che un tempo verrà un tempo migliore allora una signora che non aveva mai visto una poetessa è l'unica poetessa che ho trovato nelle mie ricerche che non aveva mai visto l'aereo prima quando ho visto quegli italiani arrivare l'aereo questo ha detto stanno sfidando Dio questi qua non sono umani guardate il suo sgomento visto che il cielo è diventato un viale visto che il cielo è diventato un viale rassium diciamo il potente uomo locale l'indiscusso capo etiope è scappato a salvare la sua pelle a questo punto non si sa neanche il destino dell'onipotente creatore l'altro dice per gli italiani come si sta bene colonizzati dagli italiani pasta a chi ha fame vino a chi ha sete niente più da fare a voi nobili dello sciora niente più da fare a voi nobili del uollo niente più da fare a voi nobili del gogiam l'indiscusso Mussolini li ha sconfitti in piedi quindi aveva terminato gli etiopini allora e uno dice questo tanti ci hanno colonizzato in un eritreo stavolta solo dagli italiani ci sono rimaste cose buone hanno scavato i pozzi costruito palazzi le ville e le strade sono tutte italiane gli italiani sono stati i migliori colonizzatori gli italiani sono stati i nostri amici che ci hanno aiutato a migliorare la nostra condizione gli altri che ci hanno colonizzato ci hanno espropriato tutto introvabile persino il semplice ferro italiano per la nostra mancanza di istruzione siamo stati incapaci a difendere e rimpiangiamo gli italiani cari italiani lunga vita e salute per tutti poiché siete stati le nuvole di gioia per gli eritrei però quest'uomo non sapeva una cosa che il ministro della pubblica istruzione Ferdinando Martini che ha governato l'Eritrea dal 1897 al 1907 nel mio libro il cittadino che non c'è c'è nella prefazione ho citato da Del Bocca storico bravo storico diceva ai negri nessuna istruzione finché lui è stato ed era ministro della pubblica istruzione italiana e attenzione ha detto ai negri nessuna scuola quindi questo poeta non sapeva questo dettaglio quindi ha lodato però è vero che le strade tutte sono italiane solo per le poesie allora io adesso voglio leggervi alcune poesie mie nel frattempo siamo diventati italiani però tutti mi chiedono da dove vieni ancora che dobbiamo fare aiutatemi a dire che ci sono nuovi cittadini ovunque andate perché cominciamo a scrivere anche poesie in italiano anche va bene per la qualità artistica lasciamo perdere però facciamo vedere quanto amiamo questa terra e quanto ci sentiamo di casa però gli altri ancora non hanno preso coscienza vorrei che ci aiutate voi carapenna vieni e suona le linee nanne di armonia e pace segno del sogno braccio del canto testimone della vita ombra del corpo e anima vieni le sere a cantarmi melodie che fanno sognare mondi senza confine l'oasi lungo il viaggio alla fontana del canto nonno sicomoro mi collò quei profumati cori secolari che fecero crescere i miei anni protetta dal sicomoro canta storie del passato mistero nel cammino e nell'esilio canto l'immensità nell'oasi della scrittura adesso vi leggo per saltare due cose tre poesie e basta una dedicata a mia figlia una dedicata all'Africa e una dedicata alle donne in generale perché per me quello che è successo a Dubrovska non è una cosa normale Sara a un anno disse dammi dammi e la candida luna a sette si potrebbe costruire le scale per salire le stelle prima prima dove Dio viveva prima prima cosa c'era un giorno il mondo finirà bella mia le dissi da anni chiudendo gli occhi prova ad immaginarmi ora che sei arrivata aiutami tu a capire cosa ci fosse prima non ho risposte grazie e a teatro Dubrovska è successo una cosa contro natura le donne e noi dovremmo essere solo promotrici di pace non di bombe teatro Dubrovska sui divani rossi del teatro donne in nero portano bombe nel grembo delicate mani incrociate sugli schienali rossi non cullano bambini cece le donne del teatro che portavano bombe nel grembo hanno cartorito un immane disastro le donne in nero dal sonno privo di sogno in silenzio come se niente fosse sono svanite nel nulla con i bambi di Beslan adesso una poesia di nostalgia che si intitola Illusione per chiudere i miei minuti sono scaduti per chiudere Illusione abbiamo sola seduta sulla panchina romana mi carezza Maria Calda africana vedo la savana il regno della candida luna sento i leoni il ritmico ballo dei fiumi melodiosi canti aromatizzati dai sonori trilli delle mie madri mi alzo versando lacrime caure di solipidi grazie 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 e il bar carolo va contro corrente e quando canta l'eco si risente se è vero fiume che tu dai la pace fiume bogliaccia fai non mi ricordassi mai come una canzone gull huo allahu ahad allahu samad lam yalid lam yulad walam yakun lahu kufuan ahad Grazie. 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 Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso è la vista del cadavere. Lo fecerò rabbrivedire. Questo è un breve racconto di Frederick Brown. Si intitola La Sentinella. Non è finito, mancano tre righe. Chi non lo conosce resterà sorpreso di come si conclude. Molti con il passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso. Ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, con quella pelle di un bianco nauseante e senza squame. Il nemico siamo noi, allo sguardo degli altri. La Sentinella di questo racconto. Noi siamo l'unica altra razza intelligente della galassia. Schifosi, ripugnanti mostri. Quelli che cominciano a sparare senza neppure tentare un accordo. Una soluzione pacifica. Vi riconoscete? Fantascienza o il mondo in cui viviamo. Quelli che cominciano a sparare senza neppure tentare un accordo. Quelli che bruciano le streghe. Quelli che hanno sterminato i pelle rossa. Quelli che Dio è dalla nostra parte. Avete mai letto Cuore di Tenebra? Kurz conclude il suo saggio sulla missione civilizzatrice della rassa bianca tra i selvaggi d'Africa. Così. Sterminate quelle bestie! Mi chiamo Daniele Barbieri, 58 anni. Sono nato a Roma da genitori italiani. Mi chiamo Amid Barole Abdu, 54 anni. Sono nato ad Asmara e dal 1974 sono in Italia. Se sono nato a Roma da genitori italiani devo essere italiano. O forse no. Magari sono un extraterrestre. Forse mentre viaggiavo nello spazio l'astronave si è guastata. E mi sono dovuto fermare fra voi. Io sono nato in Eritrea ma mi hanno dato il passaporto italiano. Però quando mi ferma la polizia e o mi ferma spesso, chissà come mai, mi chiedono sempre il permesso di soggiorno. Un italiano in Italia, fermato dalla polizia italiana, deve avere il permesso di soggiorno? O forse dipende da questo colore della pelle, così nero, scuro, sporco. SkillsIPation Diu Bank Of regardez Zinghi Proci Cami dinosa gedaan come tutte le donne Mc Lliniworma Italiani di inarca e medico Orga ebree Daniele Barvieri, razza terrestre, forse. Amid Barole, razza terrestre, forse. Un po' di tempo fa ho comprato una maglietta. C'è una lente di ingrandimento e la scritta «Visto da vicino, nessuno è normale». Voi, che ne dite? «Normale?» Lui è normale, con quella pelle scura come la notte. «Ehi, sei normale tu, con quella pelle bianchiccia e senza squame?» «Lis, in seconda fila, guardate il vostro vicino, è un albanese, un handicappato, una lesbica ebrea tifosa del Cesena». Hitler diceva «Decido io chi è ebreo». Io sono Amid Barole, passoporto italiano e pelle nera. Mai stato un clandestino. Eppure ho scritto un libro intitolato «Sogni e incubi di un clandestino». «Ho il dovere morale di denunciare le ingiustizie che altri esseri umani patiscono». Mi piace quello che ha scritto Emé Césaire, un poeta delle Antille, ascoltate. «Soprattutto mio corpo e anche tu, anima mia, state attenti a non incrociare le braccia nell'atteggiamento sterile dello spettatore, perché la vita non è spettacolo, perché un oceano di dolore non è un palcoscenico, perché un uomo che grida e urla non è un orso che balla». Io sono Daniele Barbieri, nato qui. Un giorno, ad agosto, ero su una spiaggia. Con la coda dell'occhio noto un ragazzo che gioca a pallone. Corre, salta, poi lo sento dire agli amici «Vado a fare un bagno». Con sorpresa, ve lo posso dire, con un certo panico lo vedo svitarsi una gamba prima di immergersi in acqua». «Che c'è di strano? Non lontano da qui, a Vigorso di Budrio, vicino qua, c'è un posto fantastico dove fanno le gambe, le braccia artificiali, qual è il problema? Queste meraviglie devono essere messi a disposizione di tutti, non solo del ricco occidente, ma se hai un pezzo artificiale, qual è il problema, fratello? Cosa c'è di strano? Ah, per me nessuno. Però per molti, molti pensano che se uno ha dentro il proprio corpo qualcosa del metallo, qualcosa di elettronico, allora non è umano. «Chi sbava non è umano». «Allà è con me!» dice Billate. «Dio, è dalla mia parte!» dice Bush. Un tipo famoso diceva, contro la stupidità umana, neanche gli dèi possono far nulla. «Dio, è qua!» Grazie a tutti. Mi ha davvero aperto gli occhi. C'è un medico americano, Cartwright. E insomma non importa il nome, è uno dei tanti. Siamo nell'ottocento e si parla di liberare gli schiavi. Allora lui, senti, cosa si inventa? È la difettosa atmosferizzazione del sangue la vera causa di quella degradazione di mente che ha reso la gente d'Africa incapace di prendersi cura di se stessi. Cavolo! Aspetta, non ho finito. Quel tipo, Cartwright, diede un nome, disestesia. Insomma, essere nero è una malattia dovuta ad insufficienza respiratoria. Capisci? Eh, 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 dimmi tu James Brown, come vai a cantare così? Sarà un difetto di respirazione? Ehi, Tartufon. Aspetta, non ho finito. Ascolta bene i sintomi della malattia. Quando è condotto al lavoro, il negro assolve al compito in maniera precipitosa, rovinando tutto quello che trova. Povero padrone. Anche l'insensibilità al dolore, dice quel Cartwright, eh, è sintomo della malattia. Senti qua. Quando lo sfortunato individuo è punito, non sente dolore alcuno, né alcun insolito risentimento, al di là di uno stupido malumore. In alcuni casi sembra esserci una perdita quasi totale di coscienza. Ma Cartwright propone una cura, eh? Sant'uomo. Ecco la frase esatta, ascoltavene. Il fegato, la pelle e i reni dovrebbero essere stimolati all'attività per aiutare la decarbonizzazione del sangue. Il mezzo migliore per stimolare la pelle è, primo, avere il paziente ben lavato. Magari con la varichina. Secondo, cospargerlo con olio che va fatto assorbire colpendo. Colpendo? Colpendo il corpo con una cinghia di pelle. Terzo, impegnare poi il paziente. Paziente? In qualche genere di lavoro duro che lo costringe ad allargare i polmoni. Sempre per il suo bene, ovvio. Conosci questo gioco? No. Mi insegno. È un gioco famoso in tutta l'Africa. Anche in Asia. 24, è una punta. Poi si muove così. L'obiettivo è prenderle nel campo avversario quando ne rimane una sola. Alla fine. Poi come lo dà? Vabbè è lungo, poi te lo inseriscono. Se ti piace un gioco, mi devo inserisci. Il piatto. Questo gran medico scopre un'altra malattia. Si domanda perché gli schiavi provino spesso a fuggire. Già, perché è strano, no? E lui identifica la causa in un disturbo mentale, chiamato drappetomania, cioè il folle desiderio di fuggire. Ma per fortuna i padroni... Bianchi, naturalmente. Sono buoni. Ecco cosa ha scritto quel Cartwright Lee. Come i bambini, i negri sono costretti da immutabili leggi fisiologiche ad amare chi li sovrasta per autorità. Quindi, per una legge della sua natura, il negro non può fare a meno di amare un padrone gentile come il bambino non può fare a meno di amare colè che lo allatta. Esistono padroni gentili e non si tenisce mai di imparare a questo mondo. Ehi, amico, ci sediamo un po', io sono stanco, stavo tutto il giorno a lavorare. Ci sto, ci sto. Vabbè, però quella roba che ti ho letto prima è del 1800, sai, una cosa vecchia. Mi sa che tu non senti mai parlare qualcuno della Lega Nord o va in certi bar, non è mica tanto 1800. Vabbè, ma in quel libro lì ci stanno solo le stronzate di quel tipo, là, Cartwright? No, c'è l'italiano, l'ombroso, uno scienziato, un progressista, un socialista. Lo sai? Ci ti ho nominato. Oltre ad individuare i criminali dal cranio, dalla fronte, l'ombroso ti spiega come fai a distinguere una donna onesta da una prostituta. Cavolo, e come si fa? È abbastanza semplice, dice l'ombroso. Bisogna guardare l'attaccatura delle dite del piede. Vabbè, senti, adesso ti parlo io di un libro, posso? Ma c'entra con qualcosa di cui stiamo ragionando? Sì, no, cioè di che cosa stiamo ragionando esattamente? Di alieni, di chi è umano, di chi non lo è, di razzismi, delle differenze, delle scimmie verdi. Scimmie verdi? Ora ti spiego. No, 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 uomo, tu parli troppo. Ascolta me adesso. Gli alieni, le lasse, va bene. Ho scritto, ho letto anch'io un libro. Ora lo trovo, eh. Ma leggi molto? Ah, ho capito. Tu sei uno di quelli che dice tu, un negro, leggi troppo, sta attento che ti fa male, eh. Sai leggere, negro, eh. No, 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 non volevo offenderti, già non intendevo offenderti, no, prosegui. Io, povero negro, buona, ma io non sapere leggere, ma essere tanto buono, ricordati che l'homo sapiens è nato in Africa. Io ho pure due lauree, anche se non è che mi servono molto per fare il muratore nei cantieri. Ricordatelo magari, eh. Dai, dimmi di quel libro che hai letto. Vabbè, allora, La pelle giusta di un'italiana, Paola Tabet, di Pisa, editore in Audi, uscito nel 97, ma io l'ho preso su una bancherella perché costava meno. I libri costavano un po' troppo. Allora, questa tipa brava ha guardato 7.000, dico 7.000, temi di ragazzini, degli elementari e delle medie, tra i 7 e i 13 anni sul razzismo. Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Emilia Romagna, poi giù Calabria, Sicilia, Sardegna. 424 classi. Beh, come si fa, secondo te, perché i ragazzi dicono quello che pensano e non quello che l'insegnante vuole sentirsi dire? Come si fa? Si mettono i microfoni come fanno le iene in televisione? Ma voilà, ma voilà. No, si gira intorno al problema. Invece di chiedere Ehi tu, che ne pensi del razzismo? Si dà il tema La mia vita in Africa. Oppure, arrivano gli extraterrestri? Come descriverebbero i bianchi e i neri? E che scrivono questi topi? Senti qua, terza elementare a Fiumicino, vicino a Roma. Se i miei genitori fossero neri, io proverei un calore dentro come fossi tutto infuocato. Eh? Ma che scotto io? Eh, non lo so. Ti sembra che scotto? Tocca. Ti sembra che scotto? No, non lo so. Non lo so. Tocca, non lo so, non lo so. Ma non hai mai toccato un nero? No, 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 no. Mai toccato un nero? No. Mai? Ma che dì, pensi che io faccia il dermatologo come professione? No, vabbè. Eh. Ma solo no, sai dire, non hai mai toccato un nero? No. Un indiano? Neppure. Un cinese? Neppure, ma sei ammattito, ma io faccio il toccatore di professione. però se arriva Naomi Campbell e ti dice scusi, mi darebbe una grattatina qui sulla scapola, tu che cosa fai? Eh, a Naomi Campbell la scapola, sono scapola anch'io. non peccato, ma io falle, è un cotto, ma io faccio, cap時間 che era Naomi Campbell sì eh, di la verità, ti piacciono le donne nere perché sono sensuali, però gli uomini neri ti fanno un po' paura, perché correvoce che hanno il pisello più grande. Ma dai, sono stupidaggini, ma cosa dici? Sicuro? Sicurissimo. Sicuro, sicuro? Sicuro. Vuoi verificare? Ma sei tutto scemo, dai continua con quel libro lì semmai. Quale libro? I ragazzini, no? Ah. Eh. Il libro. Vabbè. Torino, seconda media. Come ho già detto, i miei genitori sono bianchi, ma per restare al tema, se fossero neri li disprezzerei e cercherei di non credere a questo fatto negandone la verità. Ancora. Senti questo bel pupotto in quinta elementare a Roma, ha fatto un tema lunghissimo. Siamo tutti uomini, ci sono quelli di colore nero e bianco. Non tanto facilmente si riesce a trovare uomini di colore nero. Questi vivono in America, in Africa e in Albania. Noi bianchi ci troviamo in tutte le parti del mondo. Sempre lui, eh? Il ragazzino di prima. Da quattro giorni gli albanesi sono sbarcati per cercare fortuna in Italia. La città ha tanta paura di questi negri che rubano. Negri? Negri, negri. Allora tutta la città si vuota. Ma mi sa che questo ragazzino da grande farà il giornalista. Mi sa anche a me, sai, mortacci di Pippo. Dai, leggi ancora qualcosa. No, basta, basta. Basta, basta. È quasi tutto così il libro. Una grande tristezza. Ma tu sei davvero scapolo? Magari c'hai due vermogli, un sacco di amanti. No, sono solo come un cane. Magari c'hai due vermogli, un sacco di amanti. 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 Grazie a tutti. Io ho una moglie sola, anche troppo, ho una figlia che ora ha 13 anni, una fatica per farle venire in Italia, ricongiungimento familiare, sai questa storia? Adesso mia figlia non vuole portare il chador a scuola e io non so che fare, che devo fare, la devo togliere, la devo lasciare, non lo so. Tu hai dei figli, ti obbediscono i tuoi figli? Scusa, te l'ho già detto, io sono solo, non ho figli, però ovvio che mi piacerebbe avere una famiglia allargata come in certi paesi africani. Ah, interessante, ma allora non sei un razzista. Te l'ho già detto, a Naomi per esempio la gratterei benvolentieri. E dai, don Naomi, e a Nelson Mandela gliela gratteressi la scabola? Che c'entra? È un uomo lui, a me non piacciono. Però per Mandela potrei fare anche un'eccezione. Davvero gli direi, Nelson, tu sei un eroe. Puoi chiedermi tutto, anche di grattarti. Era un eroe Nelson Mandela, adesso fa la pubblicità alla Telecom. Madonna, sei sempre polemico, non ti accontenti mai. Come no? Non mi accontento mai, guarda, faccio il muratore, lavoro nero, ma tanto sono nero. Tutta la vita in cantiere di merda, prima vendevo gli accendini, poi le rose. Ma io sono uno che non si è accontenta e quindi ho fatto guerriera, tutto il giorno arrampicato. Se entro in libreria, mi guardano strano. Se mi seguo al cinema, c'è sempre qualcuno che si alza perché sono un po' troppo abbronzato. Ma almeno ti pagano bene? Intendo dire a fare il muratore? Come no? A volte pagano bene se non ci lascio la pelle. Sai com'era quella canzone, no? No. Vorrei la pelle nera. Il problema è che io non sono James Brown. Comunque la pelle nera ce l'ho già, quindi... Forse il problema è questo, che non ho la pelle giusta, come dice questo libro. Ho la pelle sbagliata. Ma hai venduto anche pure i fiori? Mai visto un nero vendere fiori? Di solito sono i cingalesi, i zingari che vendono i fiori. Ma tu secondo me sei un dermatologo, perché riconosci i zingari, i rom dai cingalesi? Neanche i poliziotti ci azzeccano mai, ma come fai? Vabbè, prendi pure per il culo. Però è buffo vedere un nero che vende rose in giro, dai. Eh, però ci sono. E tante rose arrivano dal Kenya, lo sai? Tante. Tante. E tante. Grazie a tutti. 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 Allora, visto che sei sveglio, anche se sei bianchiccio e senza squame, ti svelo un segreto. Io non solo leggo. Grazie a tutti. 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 Ti saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno dei protagonisti. Grazie a tutti. E se io, e se io, e se io ti dicessi come gli immigrati per quelli che non hanno il coraggio di prendersela con i padroni che li sfruttano? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.